Nel tutorial di oggi andremo a vedere come utilizzare Google Keep per effettuare lo CR delle immagini, ossia per estrapolare un testo che è impossibile selezionare o modificare e renderlo nuovamente modificabile, editabile e magari anche leggibile con la sintesi vocale. Cominciamo col dire che Google Keep si presenta sia in versione web, quindi utilizzabile su qualsiasi browser, su Windows, Mac, Linux e naturalmente su Chrome OS e su Chromebook, ma anche sotto forma di applicazione per device mobili, quindi su device, tablet, smartphone, Android, su iPhone e su iPad per dispositivi iOS. Partiamo dalla versione web. Per accedere a Google Keep abbiamo due possibilità. La prima è quella di andare a cercarla in alto a destra all'interno dei nuovi quadratini delle nostre app Google o G Suite for Education. Eccola qui. E l'altra è quella di andare a digitare direttamente nel browser keep.google.com, altrimenti potete salvarla all'interno della barra dei preferiti per poterla raggiungere più facilmente. Una volta entrati in Keep, questa è la pagina principale, la home, e si presenta come abbiamo detto come una comunissima app per prendere note e appunti. Quindi posso in qualche modo creare dei post-it colorati, posso creare delle checklist, posso condividere le note, posso fare in modo, in pieno stile Drive, che altri utenti collaborino con me. Per scrivere una nota sarà sufficiente entrare in alto su scrivi nota e scrivere qualcosa. Andiamo a vedere come acquisire un'immagine e andare a recuperare il testo da questa immagine. Chiaramente dal computer non posso scattare delle foto anche se è presente una webcam, quindi si suppone che dovrò possedere l'immagine, dovrò effettuare il download di questa immagine o nel caso fosse impossibilitato andare a fare uno screenshot. Per esempio questo potrebbe essere un testo che ci interessa, è un testo che di fatto non è selezionabile come potete vedere, quindi non posso recuperarlo e andare a copiarlo e incollarlo da qualche parte. Quindi a questo punto che cosa faccio? Faccio lo screenshot, poi torno su Keep e anziché scrivere una nota clicco su Nuova nota con immagine. A questo punto vado a scegliere l'ultimo file, questo qui dello screenshot che ho appena creato, faccio doppio clic e il sistema lo carica all'interno. Chiudo la nota e come vedete mi compare qui in alto a sinistra come nota più recente. Cliccando all'interno della nota vedo l'immagine, non posso selezionare il testo, ma andando qui in basso dove c'è scritto altro sui tre puntini posso andare a cliccare su Recupera testo immagine e cliccando su questa funzione in un attimo, come vedete il mio testo è stato recuperato in modo abbastanza corretto e posso andare a copiarlo, incollarlo, posso scriverci dentro. A questo punto il mio testo è pronto per essere lavorato, quindi posso o selezionarlo tutto e copiarlo e incollarlo da qualche parte o se sono abituato a lavorare con Google Doc, con Google Drive posso andare sempre nei tre puntini in basso e cliccare su Copia in documenti di Google. In pochi secondi KIP andrà a creare un documento in Drive. Cliccando su Apri documento conserverò sia l'immagine originale sia il testo sul quale posso andare a lavorare. A questo punto il testo può essere anche, ad esempio, letto con la sintesi vocale di Read&Write. Seleziono una parte e clicco su Play. Andiamo a vedere come utilizzare Google KIP invece su device mobile. Quindi la prima cosa da fare è aprire Google KIP sul nostro telefono. Compariranno le note che abbiamo già creato. Quindi dobbiamo cliccare in basso dove c'è il simbolo dell'immagine nella barra inferiore. A questo punto potremo scegliere se scattare una foto o scegliere un'immagine della nostra galleria. Noi sceglieremo in questo caso di scattare una foto per sfruttare la fotocamera del device. Quindi clicchiamo su Scatta foto. Inquadriamo la porzione di testo che vogliamo recuperare. Scattiamo la foto e confermiamo cliccando sulla spunta blu in basso. A questo punto dobbiamo aspettare qualche secondo in modo che la nota venga sincronizzata. Una volta che ciò avviene dobbiamo fare tap al centro della foto. Cliccare al centro della foto per far comparire in alto a destra i tre puntini che come avrete già capito ci sveleranno il tasto recupera testo immagine sul quale basterà cliccare per recuperare il nostro testo che come abbiamo fatto prima sul computer a questo punto potrà essere modificato, selezionato, letto con la sintesi vocale e potrà essere utilizzato in tutte le modalità che vogliamo. In Google Keep è possibile anche sfruttare lo CR con la scrittura manuale. Tuttavia questa funzione è ancora in fase di sviluppo per cui non è precisa come lo CR che abbiamo visto in precedenza e che funziona invece già molto bene. Vi mostro come funziona su un iPad ma tenete presente che funziona allo stesso modo su tablet, Android e smartphone. Andiamo ad aprire Google Keep, clicchiamo in basso a sinistra sul simbolo della penna o della matita e andiamo a scrivere qualcosa, in questo caso in corsivo. Chiudiamo la nota, diamo il tempo al sistema di effettuare la sincronizzazione rispetto a quanto mostrato prima ci vuole più tempo affinché compaia il tasto recupera testo immagine. Andiamo a cliccare all'interno della nostra immagine, quindi sui tre puntini in alto a destra e quindi su recupera testo immagine. Come potete vedere in basso, nonostante la pessima scrittura, è stato effettuato lo CR in modo corretto. Grazie a tutti.